Giusto un paio d'anni per pensare all'ottimizzazione di questo mazzo, ma ci siamo versione definitiva, signori. Il mazzo del popolo, signore e signori, è grande, grandissima richiesta, avete tutti urlato a gran voce, chiesto la decktech definitiva di questo mazzo ed eccoci oggi per mostrarvela. Ci è voluto tempo, ci è voluto un bel po' di tempo, lo so, siamo in questa posizione alquanto strana, perdonatemi, voglio fare dei test e credo che questo sia il mazzo giusto per chiedervi un paio di feedback. È una posizione mobile fatta da iPad, editerò tutto da iPad, quindi mi raccomando nel caso il video, il mazzo, l'audio, tutto quanto, dove se piacervi lasciate un bel like, arriviamo ad almeno 100 like per vedere questo mazzo giocato in partita. Giruda, Doom of Depths, bellissima questa versione, Foil, Hoil, Sleaked, Olo, come cavolo si chiama. Quando Giruda entra nel capo di battaglia, ogni giocatore macina quattro carte, tra le carte macinate scegliamo una creatura con costo di mana pari e la mettiamo in campo sotto il nostro controllo. Saprete già che ho impostato questo mazzo in una maniera davvero davvero particolare, davvero tanto stupida quanto efficace, ovvero ho riempito il mazzo di cloni, di carte che clonano, di creature che clonano una creatura, che entrano in campo come una creatura, di modo da far retriggerare l'abilità di Giruda e vincere di macina. Ho condito tutto ciò ovviamente con qualche counter, qualche elemento di control, qualche creatura comunque, utilities e soprattutto carte che raddoppiano, triplicano, quadruplicano i trigger. Signori, partiamo subito. Parto col dirvi che ho talmente tanti Giruda nell'album che quelli che non uso da comandante li uso da pedina, piccola chicca mia. Incominciamo con le terre base che sono innevate, abbiamo 10 paludi e 10 isole. Perché innevate? Perché abbiamo ben una carta che sfrutta le cose innevate, e quindi ho voluto inserire queste, nonostante appunto sia solo una carta, ma è davvero davvero forte e importante. La vedremo dopo. E ve l'ho già detto ragazzi di passare nel caso da Card Trader tramite il nostro link in descrizione se volete acquistare qualche bella carta che vedete oggi. Cominciamo quindi con le terre non base a rovine dell'Accademia. È un'ottima terra che riprende artefatto dal cimitero, essenzialmente ci serve per recuperare nel caso Panarmonicon. Tomba antica, anche se costa tanto, fate scorta di questa carta perché serve in ogni mazzo per rampare visto che ci dà 2 mana al costo di 2 danni. Una fantastica, bellissima e nuovissima Cavern of Souls Foil, naturalmente nomineremo Demone perché oltre a Giruda giochiamo anche un'altra creatura che è Demone, purtroppo non ho trovato altri tipi di creatura dominanti. Questa cosa in tedesco lo so che non piace a molti, me compreso, però è una City of Brass. Mi piace un casino quest'arte, diversa dalle altre, un po' più particolare. Questo è il pathway, quello che si gira può essere o blu o nero. E bellissima la torre di comando di Jurassic Park. Ovviamente da inserire in tutti i mazzi. Aquitrino, Tetro quando entra ci fa guadagnare un punto vita. Ci stanno secondo me queste terre, fanno prendere abbastanza tempo. E anche la Fable Passage che ci fa prendere una terra base nel mazzo. Tunnel di ghiaccio, terra doppia, fecciabile, neve. E rifugio dell'isola Juar che ci fa anche lei guadagnare un punto vita. Insomma può essere interessante. Memorial to Folly per recuperare creature dai cimiteri. Ovviamente una bellissima fetch blu-nera. Naturalmente carta interessantissima. Porto di Carpel che entra tappato aggiunge blu. E ci fa eventualmente con la sua abilità macinare e rianimare. Il che è una cosa ovviamente super sinergica. Andiamo avanti con il Tempio per profetizzare. Urborg, tomba di Yagmoth. Non ho inserito Cabal Coffers perché non mi sembrava così essenziale in questo mazzo. E ovviamente una bellissima Shockland blu-nera. Passiamo ora al reparto ramp. Reparto ramp molto 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 importante. Anche se probabilmente farò altre modifiche. Ma anche qui adesso vi dico qualcosina in più. Attualmente andiamo a giocare naturalmente Arcane Signet. Cold Steel Art che è un'ottima pietra. Anche lei neve. Ritual Siniestro Olé ovvero Dark Ritual. Mangiato più o meno dalle Pantegane morte. Ovviamente Mana Crypt. Tanta 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 tantissima troppa roba. Anello Replicante anche qui. Bellissima roccia e soprattutto neve anche lei. E anello Solare, Solring. Giochiamo Commander, vogliamo non giocarlo. Vedremo più in là con la Deck Tech qualche altra carta che fa da ramp. Qualche altra roccettina che però ha anche scopi secondari. Piccolo appunto. Probabilmente un domani mi libererò di Arcane Signet. E probabilmente mi libererò di Cold Steel Art. Inserirò Jeweled Lotus e Lion's Eye Diamond. Perché a noi interessa fare il comandante. Con quelle due carte nel mazzo possiamo effettivamente farlo a turno 1. Basterebbe anche un petalo di loto ma voglio quelle due carte lì. Le ho già nell'album. Non le ho inserite attualmente. Ma 90 su 100 farò così. Lo giocherò così. Siamo alle rimozioni che per lo più sono vratte. Non è un mazzo nel quale perdiamo troppo tempo sul pezzo singolo. Quindi l'ho riempito appunto di vratte. E la carta alla quale dobbiamo assolutamente dare valore per via dei permanenti neve è Blood on the Snow. Che tra l'altro avevo sbustato con il Twerkabox di Kaladesh. Così foil. Non l'ho più trovata e l'ho dovuta ricomprare. Ma tanto con Cartrader Zero mi costata niente. Bellissima carta che svratta o le creature o i Planeswalker. Dopodiché possiamo rimettere in campo dal nostro cimitero una creatura o un Planeswalker. Con costo di mana pari o inferiore ai mana neve utilizzati per lanciare questa magia. Tanta tanta roba. Abbiamo poi questa bellissima Damnation. Ne ho prese un casino all'epoca. Ne ho tipo 4 o 5 ed è fantastica sta Full Art. Artless Act distrugge una creatura senza segnalini oppure rimuoviamo 3 segnalini da una creatura. Non è da sottovalutare questa cosa perché tutti questi segnalini indistruttibili, segnalino Travolger, segnalino Lifelink. È la carta che in casi particolari può fare la differenza. E chiudiamo con una bellissima Toxic Delage. Costo 3 per dare meno X, meno X alle creature. Pagando ovviamente punti vita. Quanti vogliamo. E se non ci concentriamo troppo sul togliere la creatura singola, ci concentriamo invece un pochettino di più sul difenderci e sul togliere quella magia che potrebbe far vincere l'avversario. Come? Con 6 counter. 6 belle counter. Una delle migliori counter che secondo me si possano giocare in tutta Magic è Arcane Denial perché è vero fa pescare l'avversario ma fa pescare anche noi ed è una counter secca a costo 2 e non è doppio blu. Cosa che invece purtroppo è counter spell ma sappiamo che è la miglior counter di Magic oggettivamente. Anche se forse, forse, forse questa bellissima Force of Will Foil è meglio. No? Seguita da Memory Lapse, carta che ad ora in questo mazzo è super sinergica. Voi non avete idea di quante volte neutralizziamo i comandanti a costo pari dei nostri avversari. L'avversario che magari non ci pensa subito lo mette in cima al mazzo per via della Memory Lapse. Noi il turno dopo facciamo Giruda e gli giochiamo il suo comandante perché in quel caso non può scegliere di mandarlo in zona di comando se dal mazzo passarebbe al cimitero. Giocatela. Ovviamente Pact of Negation, l'anticombo per eccellenza, la difesa per le nostre combo per eccellenza ed eccovi qua una piccola chicca, forse da censurare questa carta non lo so ma tanto c'è il culo di Moxie qui quindi. Wittering, boon, costo 2 per una magia istantaneo che pagando 3 punti vita ci neutralizza una magia creatura. Questa carta è un trick mentale assurdo perché noi stiamo magari open di doppio nero, l'avversario non si aspetta counter e pack gli facciamo una counter mono nera. Gli utilities, un po' di carte che fanno un po' di tutto, spaziano magari in settori che abbiamo anche già visto prima ma ho voluto fare un unico gruppo. E partiamo con una carta bomba ovvero Beseech the Mirror. Questa simpatica signorina mediamente costosa è tanto 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 tantissimo utile in questo setup di mazzo perché sacrificando un incantesimo o un artefatto possiamo giocare la carta che scegliamo dentro al mazzo direttamente al posto che prenderla in mano se è a costo 4 o inferiore. Quasi tutte le spell che ci raddoppiano i trigger come può essere panarmonico, come può essere tassa, come può essere un po' quello che volete o qualsiasi cosa ci serva all'evenienza hanno quei costi lì. Quindi sacrificare una search for scanta o una carta che rampa in casi estremi o in casi safe direi che è più che giustificato. Andiamo avanti con un bellissimo Cyclonic Rift, carta che ho inserito all'ultimo minuto perché Moxie l'ha tolta dal suo esterid avendo inserito la versione foil, andatevi a vedere l'ultimo money vlog. Ed è una carta che anche qui non può mancare se ne abbiamo la disponibilità. Come anche Layline of the Void, bellissima questa versione con Giruda, questa è letale perché non mettiamo al cimitero carta i nostri avversari ma gliele togliamo, gliele esiliamo direttamente. E attenzione, l'abilità di Giruda risolve comunque se becchiamo una creatura tra quelle carte esiliate. Long Term Plancy, il tutore migliore che possiamo desiderare. Prende una qualsiasi carta e la mette come terza dalla cima del mazzo. Giruda quante carte macina? Quattro. Bene, possiamo andarci a prendere il clone che vogliamo e metterlo come terza e poi fare Giruda, ad esempio. Mystic Reflection, se seguite quei pochi shorts che mettiamo scoprirete quanto io amo questa carta e quanto può distruggere le strategie avversarie se la usiamo con il cervello. Abbiamo poi una bellissima Reanimate, che comunque a costo 1 può ributtarci in campo una creatura barra clone che è finita lì per qualsiasi motivo. Search for Azkanta, come vi ho anticipato prima, ci fa scremare un pochettino il mazzo nei primi turni, giochiamo pochissimi, peschini. Questo perché avevo inserito qualche creatura, tante, troppe creature che facevano da peschino quando entravano, o ad esempio Gingitaxias, quello classico a costo 10. Ma in casi estremi, quelle carte possono essere alla nostra fine. Perché? Provato sulla pelle. Se per caso noi siamo obbligati ad andarci a rianimare quella creatura lì e non abbiamo carte nel Grimorio perché grazie ai trigger di Giruda abbiamo macinato gli avversari e noi stessi, saremmo noi a perdere perché dobbiamo andare a pescare senza avere carte nel Grimorio. Quindi non giocate creature che vi fanno pescare, piuttosto buttateci dentro una opt, una brainstorm, quello che volete, ma non creature. Chiudiamo con una carta che adoro, comando di Silungar, guardate che bella, costo 5, scegliamo 2. Questa carta è spaventosa, è un costo alto, lo so ma è spaventosa. Neutralizziamo una magia creatura, balziamo un permanente, attenzione, non non terra, possiamo balzare anche una terra eventualmente. Una creatura prende meno 3, meno 3 o distruggiamo un planeswalker. Giocatela, fidatevi di me, lo so che costa tanto, ma giocatela. E ci siamo, uno dei reparti più interessanti di questo mazzo, bellissimo, bellissime queste carte. Signore e signori, il reparto duplica effetti, doublers, come li chiamo io. Ovviamente trovate tutto su Dextats, vi lascio il link al mazzo in descrizione, ed è già tutto diviso in sezioni, come ve le sto mostrando adesso. Cominciamo con Panarmonico, che è un po' il re di ciò che va a duplicare le abilità. Abbiamo poi questo bellissimo Romaintron, che abbiamo sbustato nel Tuerca Box di Ixalan, che dovete assolutamente recuperarvi. Bellissima carta, quando entra nominate Demone. Abbiamo poi, anche se non duplica le abilità, l'ho inserita comunque in questa sezione, la bellissima, le gigantesche tasse abitanti degli abissi. Signore e signori, indistruttibile, se la devozione inferiore a 5 è un incantesimo e non è una creatura. All'inizio della sottofase finale, blinchiamo una creatura, quindi scegliamo uno dei nostri Geruda, gli facciamo fare Papak e riattivare l'abilità. E chiudiamo con Virtù della Coscienza. Costo 5 con un'avventura altrettanto interessante. L'incantesimo, costo 5, raddoppia i trigger e bene, perfetto, va bene così. Questa bellissima avventura a costo 2 è istantaneo, però non è per nulla poco importante, anzi. Sapete qual è un ottimo modo di giocare questa avventura? No? In combo con le fetch, banalmente. Perché? Perché possiamo copiare l'abilità di andare a prendere una terra. Io spesso la gioco così, anche su Arena, signore e signori. Sfetchiamo, spacchiamo, andiamo a cercarci la terra in pila, copiamo l'abilità, ci andiamo a prendere 2 terre. E poi abbiamo l'incantesimo da giocare per l'avventura. Tantissima, tantissima roba. Siamo poi ad un reparto che ho chiamato Morgirudas. Sono carte che fanno un po' tutto, in realtà, che hanno determinate abilità che ci possono aiutare a aumentare ulteriormente i nostri trigger. Come? Beh, lo vediamo subito. Cominciamo con sangue per ossa. Questo rianimino non è un rianimino qualunque. È un costo 4, quindi abbastanza alto. Come costo addizionale per lanciarlo dobbiamo sacrificare una creatura. E qui mi fermo. Quando paghiamo il costo non dobbiamo già aver scelto il target. Questo a cosa ci serve? Ci serve perché questa carta rimette sul campo di battaglia una creatura dal cimitero e ce ne fa riprendere in mano un'altra. Bene. Sapete cosa possiamo fare con questa cosa? Pagare 4, sacrificare il nostro Giruda o un clone di Giruda o qualcosa del genere, per poi rianimarlo subito e riprenderci anche in mano un'altra creatura eventualmente. Aumentando quindi la possibilità di creare trigger. Andiamo avanti, andiamo avanti. Carata interessante, vero? Con Glass Pool, Mimic. Ci fa principalmente da terra ed è un clone a costo 3, quindi che non possiamo rianimare con Giruda. Ma in caso estremi il costo 3 è basso, se no lo utilizziamo come terra. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Poi fa il full art bellissimo. Machine God Effigy. Io devo ringraziare i TTP per avermi mostrato questa carta nella partita che ho fatto sul loro canale. Contro di loro è stata bellissima, ragazzi, andatevela a vedere. Entra nel campo di battaglia come copia di una creatura, eccetto che è un artefatto e non è una creatura. Possiamo farlo ovviamente, non è obbligatorio. Se no, possiamo usarla come roccia per dare mana blu. Malakir e Bert. Scegliamo una creatura, perdiamo due vite fino a fine turno. Se quella creatura sta per morire, la rimettiamo sul campo di battaglia tappata. Vuol dire, naturalmente, Ghiruda muore, Ghiruda viene sacrificato, c'è la regola del leggendario da risolvere. Fatelo prima, naturalmente, perché non passa dalla pila. La utilizziamo preventivamente e la creatura ritornerà in campo per riattivare le abilità. Incisione planare e vela metto assieme contrazione temporale di Teferi. Due carte fantastiche che semplicemente blinkano un pezzo. Istantanei a costo 2 ci possiamo anche salvare le nostre creature. Disperdere nel vento carta carina, perché in casi estremi può essere usata anche per altre cose. Esiliamo un permanente non terraversaglio. Finché quella carta rimane esiliata, il suo proprietario può lanciarla senza pagare il suo costo di mana. Vero, possiamo giocarla su Ghiruda e rigiocarlo senza pagare il costo di mana. Ok. Ma farla in hand su una creatura avversaria che ci dà fastidio, quindi non facendogliela rilanciare perché siamo in hand, può comunque venire buona. E chiudiamo con una delle carte dell'Espansione Scherzo, dell'Espansione Scherzo, sì, oggi ci sono, giocabili in Commander. So, in Half, segato in due, credo sia il tizio sull'arte di Adnausem, Moxie mi confermerà, distrugge una creatura bersaglio. Se quella creatura muore in questo modo, il suo controllore crea due creature, che sono la copia di quella creatura, ma con metà forza e costituzione. Tanti piccoli mini Ghirudini. Oppure rimozione che va su una creatura che ci dà fastidio, che magari non ci crea troppi problemi, se entra in campo più piccolo, insomma. Sfruttatela come volete. Ehm, ok, siamo al reparto... Cloni. Tutte le carte che possono clonare creature permanenti di Magic the Gathering a costo pari le ho buttate dentro. Tutte. A prescindere da abilità secondarie, da fa questo, non fa quello, leggendario, non leggendario... Tutto, tutto ciò che quando entra mi copia Ghiruda, mi fa riattivare l'abilità, io l'ho buttata dentro. Abbiamo quindi Autumn, Solbier, Assassina, Callidus che distrugge eventualmente anche una creatura. Abbiamo poi, ovviamente, Impostore Scaltro che copia un permanente Clone, ovviamente un classico. Gemello cattivo, perché c'è sempre il gemello buono e il gemello cattivo e le due gemelle buone. Non ho detto niente. Flash Duplicate, che dopo un po' si spacca, ma sinceramente non interessa poco. Gigantoplasma, guardate che carino. Mirror Hall Mimic, importantissime queste che si rigiocano dal cimitero, lei entra come incantesimo che mette copie dopo, ma comunque bella bella. Ovviamente, Immagine Fantasma, costo 2, Metamorphosi, Firexin, interessante anche per copiare i ramp nei primi turni. Sakashima of Thousand Faces, questo non fa applicare la regola del leggendario, come anche Sakashima l'Impostore, e Sakashima, Sprotage, Protège, come cavolo, si dice che invece copia una creatura entrata in campo in questo turno. Non è un problema di solito. Studente di Sakashima, quanti, tanti, troppi Sakashima, clone della scintilla, spettacolare, anche lui non è leggendario. Stunt, Double, bellissimo, Undercover, Operative, che prende un segnalino, scudo, quindi magari ci salva da una rimozione una volta, Visir, dei molti volti, tanta roba, imbalsamare, la rigiochiamo dal cimitero, tranquilli, tranquilli, e muro dell'identità rubata. Come avete visto sono proprio due in croce. Diciamo che le possibilità di beccare un clone sono alte anche solo con un trigger, con due 90 su 100. Se proprio Gesù non ci ha lanciato qualche... Gesù lancia le magie, giusto sì, Gesù lancia le magie, qualcosa di strano diciamo che li becchiamo, ne abbiamo e abbiamo anche altre cose. Abbiamo praticamente finito. Ma voglio mostrarvi delle creature che o aiutano il buono, buon Girouda a effettuare altri trigger, o che sono buone se entrano soprattutto con trigger multipli. Andiamo con calma perché vanno spiegate tutte. Semeteri, The Secretor è un ottimo 8 per i cimiteri, toglie carte dai cimiteri. Questo lo fa quando entra e quando muore, minacciare 4-4. Dopodiché o diamo meno X, meno X a una creatura dove X è il costo di mana della carta che abbiamo esiliato, oppure rimuoviamo X segnalini da un permanente, non per forza creatura, quindi magari eliminiamo anche i planeswalker, chi lo sa. Dead Eye Navigator è il clone che non dice di essere un clone, perché comunque entra in campo, facciamo soulbound, e pagando 2 continuiamo a blinkare, quindi tanta tanta roba. Dean Rova, horror, una delle mie carte preferite. Questa quando entra balza un permanente a un giocatore, e quel giocatore poi scarta una carta permanente, anche terre. Questo con trigger, multipli, tassa che lo rifà, copie su copie, è letale più di Ghiruda. Hostage Taker forse è una delle carte più semplici, ma più difficili del mazzo. Perché? Costo 4, quando entra scegliamo un artefatto o una creatura, e le esiliamo finché lui è in gioco. Inoltre possiamo lanciare le carte esiliate con lui, spendendo mana come se fosse di qualsiasi colore. immaginatevi questa carta con un trigger doppio, è un po' complicata questa cosa, un trigger doppio, non starò a farvela troppo lunga. Possiamo creare con questa carta, ovviamente con molto mana, e ragionandoci un pochettino, un loop di Hostage Taker che vengono clonati, e che quando vengono esiliati, fanno rimettere Ghiruda in campo, i cloni di Ghiruda in campo, e che poi esiliano di nuovo quello che li tiene esiliati, per farli rientrare e continuare all'infinito. Non ho capito neanch'io, non so cosa sto dicendo, ma si può fare, l'ho fatto più volte. Entro l'esilio, entro l'esilio, e l'altro pezzo che entra, che non è un clone, è un Ghiruda in qualche modo. Vi garantisco che si può fare, lo ripeto, lo so, sono confusionale, ma si può fare. Abbiamo poi un Eldrazi, ho inserito Kozilek, ma anche Ulamog è uguale oggettivamente, è qui solo ed esclusivamente per rimescolare il cimitero. Poi, se lo vogliamo giocare, non è che sia proprio una brutta carta. Massacre, Wurm, pulisce il campo, meno due a tutte le creature controllate dagli avversari quando entra, quando una creatura controllata da un avversario muore, quel giocatore perde due vite. Questo, con trigger multipli, è letale. Pastore degli incubi. Lui è bellissimo e sfrutta la regola del leggendario. Quando riusciamo a mettere lui in campo, noi non vogliamo giocare i cloni che annullano la regola del leggendario o non sono leggendari. Perché? Perché ogni volta che, ad esempio, lui in campo, Ghiruda, entra un clone, sacrifico il clone per la regola del leggendario, lo mando al cimitero, lo esilio grazie alla sua abilità, creo una pedina 1-1 che è la copia del clone, che entra come Ghiruda, ok? Regola del leggendario, sacrifico il Ghiruda originale, non lo mando subito in zona di comando, lo mando al cimitero, si attiva la sua abilità, lo esilio, ovviamente questa volta lo mandiamo in zona di comando, creiamo un altro 1-1 regola del leggendario, sacrifichiamo uno dei due Ghiruda, o 1-1, e abbiamo 3-4 trigger in pila. E chiudiamo questo mazzo cervellotico, devo dire, in queste ultime fasi, con il Chupacabra, che quando entra, distrugge una creatura bersaglio controllata da un avversario. E anche lei, con trigger multipli, è tanta, tanta, tantissima roba. Wow, ce l'abbiamo fatta, signore e signori, io vi invito a dirmi cosa ne pensate di Codesto Mazzo. È diventato uno dei miei pet deck, se vogliamo chiamarlo così, uno dei mazzi che più preferisco giocare, che più mi diverto a giocare. Non è un mazzo di quelli combo autopilot che sapete non mi vanno proprio a genio, è un mazzo divertente, è un mazzo stupido, un mazzo concettualmente stupido, ma divertentissimo. Mi raccomando, arriviamo a 100 like nel caso il video vi sia piaciuto, scrivetemi tutto quello che non avete trovato di vostro gradimento, dalla posizione della facecam, all'audio, a questo, quello, quell'altro, quello che volete. Lo sapete che amiamo i commenti costruttivi e ci teniamo a migliorare di qualità. Ovviamente seguiteci su tutti i nostri social, trovate un link unico in descrizione che vi guida anche all'archivio mistico, contenuti extra con tante X che potete ricevere in caso ovviamente di donazione importantissima, per supportare il canale e portarvi opening o cose del genere. Come vi ho detto, più volte acquistate da Card Trader utilizzando il servizio Card Trader Zero passando dal link in descrizione. Così facendo intanto risparmiate un macello di soldi, ma davvero davvero tanti e ve ne abbiamo dato più volte dimostrazione e soprattutto passando dal nostro link aiuterete il canale senza sborsare un centesimo in più. Quindi fantastici. Ciao a tutti da Omega, grazie e al prossimo Ghiruda perché sì, figuriamoci se io sono soddisfatto e non cambio di nuovo un mazzo dopo 20 secondi che ho portato la deck touch. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.